È l'Ambiente il protagonista del calendario storico dei Carabinieri 2023, presentato oggi anche alla stampa Nissena, contemporaneamente alla presentazione nazionale a Roma, ottantesima edizione, con una tiratura da 1.200.000 copie, di cui 16.000 in 9 lingue straniere. A firmare il progetto l'Agenzia Armando Testa, che racconta nei 12 mesi, attraverso altrettante tavole artistiche, l'azione dei Carabinieri a difesa dell'ambiente e del territorio del paese italiano. Presenti anche quest'anno 12 storie di impegno e tutela ambientale, scritte dal giornalista e scrittore Mario Tozzi. Per la prima volta il calendario è dedicato anche un sito web calendario.carabinieri.it e un'opera d'arte non fungible token, ovvero NTF, certificato di proprietà di un'opera digitale. L'NTF trasforma così la copertina in un'opera high-tech, disponibile in dieci esemplari autenticati che saranno poi successivamente disponibili per la vendita in coppia in edizione limitata. Ricavato sarà tutto devoluto alla struttura pediatrica oncologica dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Oltre al calendario pubblicata anche l'agenda, un'edizione, quella del 2023, che coniuga tra edizione e modernità. Grazie a tutti.